La Giunta regionale delle Marche risponde alla crisi e conferma tre delle misure anti-crisi di maggior successo, contratti di solidarietà, ausili finanziari per i precari della scuola, contributi per gli studenti universitari, lavoratori o figli di lavoratori disoccupati, immobilità o disoccupazione, per un ammontare di 1,2 milioni di euro, provenienti dal Fondo Sociale Europeo, aggiungendo 200.000 euro al capitolo dei contratti di solidarietà. Secondo quanto annunciato questa mattina in una conferenza stampa in regione dall'assessore Marco Lucchetti, la cifra può aumentare. Sì, questa è la prima tranche che utilizziamo a fronte di un impegno più cospicuo che abbiamo siglato in un accordo con i sindacati proprio a ridosso del bilancio. È una parte delle azioni che stiamo facendo per sostenere i lavoratori in difficoltà e voi potete immaginare che siamo veramente in una difficoltà estrema rispetto al lavoro e pertanto le famiglie sono in netta difficoltà. A parte, voglio dire, l'intervento dei genitori a sostegno delle famiglie più giovani, ma ci sono delle situazioni a cui far fronte è veramente difficile. Ecco perché questi sono i primi tre interventi che fanno parte di un pacchetto che si allargerà mano a mano, ma che vogliamo portare a conoscenza degli interessati, che riguarda un'azione per i lavoratori che hanno figli che frequentano un'università. Sotto un determinato reddito è possibile prendere questo aiuto per far continuare gli studi. Il secondo intervento riguarda una continuazione anche degli altri anni sui precari della scuola. Sappiamo che anche questo è stato un fenomeno piuttosto evidente negli ultimi tempi, però noi continuiamo a sostenere qui a lavorato nella scuola, ma questa volta li indirizziamo, cioè con queste misure di sostegno al lavoro dei precari, li vorremmo destinare soprattutto agli istituti professionali che hanno più bisogno. Terzo elemento sui contratti di solidarietà. Questo è uno strumento molto importante di politica difensiva, ma comunque di politica che possono utilizzare le aziende che non hanno la possibilità di utilizzare lo strumento del contratto di solidarietà nazionale, proprio perché non rientrano nella legge. Noi interveniamo proprio per sostenere i contratti di solidarietà.